Bella prestazione delle ragazze a Maranto che vanno subito in vantaggio dopo un minuto di gioco per merito della numero 17 Gnischi. Dopo 20 minuti Ceccarelli sfrutta una chance e mette a segno il secondo gol per la formazione a Maranto ed è 2-0. Al 26esimo ancora una bella azione per le aretine con Orlandi che si gira in aria e colpisce il legno. Ceccarelli impatta un pallone leggermente alto servito da Lorieri però l'operazione non va in porto. Al 33esimo arriva il tris a Maranto ad opera di Vicchierello. Nella ripresa al 15esimo Gnischi sfrutta una palla filtrante, colpisce la traversa, arriva Ceccarelli che fa doppietta per il 4-1 dell'Arezzo. Al 21esimo minuto la numero 8 dell'Orsette Cotrer accorcia le distanze perché prova a credere nella rimonta e spinge il recupero con un gol da fuori aria a frutto di un atteggiamento più propositivo da parte della Pistoiese. È 4-1. Sul finale di partita Pasquali va a un soffio dal gol del 5-1 per l'Arezzo sbagliando non di molto traiettoria su colpo di testa. Bella prestazione convincente per le aretine e un risultato che poteva essere anche più rotondo.